È passato più di un anno dal mio primo video, dalla prima pillola proprio come questa, e questa è la centesima. Un mondo dell'arte come nessuno mai ti ha raccontato prima. E sì, sono oltre 100 video come questi. Ho parlato di tantissimi argomenti sugli artisti, sul mercato, sulle opere, artist, artwork e artworks. Ho parlato nel dettaglio di tanti segreti derivanti alla professione d'artista. Ho ancora di strategie, di curiosità, di mondo e di attualità, tutte legate ai segreti dell'arte. Ma non sempre tutte sono andate bene. Sin dal primo video avevo pensato che c'era qualcosa da dire nel mondo dell'arte, qualcosa da spiegare, qualcosa che nessuno mai ti racconta. Decisi quindi di creare una finestra, un'opportunità in cui potevo raccontare in maniera semplice e diretta alcuni concetti, alcune frasi, alcune opere o ancora alcune iniziative e curiosità che riguardavano il mondo dell'arte. Da qua è nato tutto. Ho girato oltre 200 video quest'anno, tra i vari formati, video, occasioni, talks, le interviste, arte donna o ancora l'amata arte innovazione, in cui ognuno di loro raccontava una parte specifica. Ma questo è stato il primo amore. Il faccione in bianco e nero, le pennellate sopra e sotto, un chiaro marchio distintivo oggi. Ma l'abbiamo dovuta realizzare oltre 99. Infatti questa è la centesimo. Ma io non sono di certo né un presentatore né altro. E quindi è stata lunga la strada per capire come funziona, per capire quali erano le dinamiche di interazione o ancora come potevo raccontare un concetto a discapito di un altro. Adesso ne vedrete un pochino di tutti quei minuti girati, di quelle scene. Per un minuto e mezzo, inizialmente ci mettevo mezz'ora se andava bene, 40 minuti, per un minuto di filmato. Oggi tutto questo è un po' più veloce. L'esperienza, il team, lo staff e tutti quanti hanno aiutato a fare questo piccolo miracolo di arte concas. Ma non è stata sempre tutto semplice, anzi, vuoi vedere un po' di backstage e di scene tagliate? Guarda un po'. Per questo, per questo, per questo è fondamentale, ora devo fare l'introduzione, vero? L'apertura internazionale delle mostre temporanee, ok Ale? La mostra personale è un... ho già detto però prima qualcosa di importante, vero? Pagata per giunto al testamento del Luna? 1, 2, 3, provate. Ha appena inaugurato la sua 58esima esi... esima edizione. Ha appena inaugurato la sua 58esima edizione. 1, 2, 3, provate. Boh, la me si è matto a culo. Ok. Hai visto cosa nasconde un video di pochi minuti? Tanta passione, tante rotture di scatole, a volte divertimento, a volte meno. Tuttavia, questo è arte concas ed è un piacere farlo quotidianamente. E tu, sei pronto a scoprire i segreti dell'arte?